La rivoluzione francese è un momento molto importante nella storia europea. La rivoluzione inizia nel 1789 e finisce con la salita al potere di Napoleone nel 1799. La Francia nel 1700 era una monarchia assoluta governata da un re assoluto secondo il modello dell'Ancien Regime. Il re era Luigi XVI che concentrava tutti i poteri dello Stato nelle sue mani. Luigi XVI era parente del famoso re Sole Luigi XIV e viveva nell'immensa e ricchissima reggia di Versailles ed era sposato con la regina Maria Antonietta. La Francia, alla fine del 1700, era un paese molto popoloso. Tuttavia la società era arretrata ed era divisa in rigide classi sociali. Questa divisione può essere rappresentata con una piramide al cui vertice si trova il re assoluto. Subito dopo c'erano due classi molto ricche, quella dell'alto clero e della nobiltà, che godevano di molti privilegi. Il primo Stato era formato dal clero, l'insieme cioè dei cardinali, dei vescovi e dei più importanti uomini della Chiesa francese. Il secondo Stato, la nobiltà, era composto da principi, signori, duchi e marchesi. Il resto della popolazione formava il terzo Stato ed era l'insieme di tutti coloro che non facevano parte dei primi due Stati. Il terzo Stato, quindi, comprendeva la maggioranza del popolo francese. C'erano i commercianti, i banchieri, gli artigiani, fino ad arrivare ai contadini e ai poveri. Chi si trovava nei primi due Stati era ricchissimo e aveva molti privilegi. Ad esempio, non pagava le tasse e possedeva molti dei terreni in cui lavoravano, come dipendenti, le persone del popolo appartenenti al Terzo Stato. La situazione economica della Francia, dal 1750 in poi, non era positiva. Infatti, le casse dello Stato gestite dal re erano vuote. Perché si era arrivati a questa situazione? Si era giunti a questa crisi perché il sistema fiscale, cioè il modo con cui si facevano pagare le tasse, era ingiusto. Solo il Terzo Stato le pagava, mentre i nobili e l'Alto Clero no. Inoltre, il re aveva tantissimi debiti, a causa delle numerose guerre che la Francia aveva sostenuto e per le spese per mantenere la ricchissima reggia di Versailles, dove vivevano nel lusso la famiglia del re e le famiglie dei nobili. Un ultimo aspetto importante è che, in questo periodo, delle carestie violentissime avevano reso molto difficile la vita del popolo francese, a causa dei cattivi raccolti e dei prezzi elevati dei prodotti. Dunque, la rovina finanziaria ed economica dello Stato, la carestia e la crescente povertà del popolo furono le cause principali della rivoluzione francese. Anche perché, i tentativi di riforma fiscale di Luigi XVI si rivelarono inutili per l'opposizione della nobiltà e della Corte. Di fronte alla gravità della situazione, il re decise di convocare gli stati generali, la grande assemblea cioè di tutti i rappresentanti dei tre ordini della Francia, per cercare di risolvere questi problemi estendendo, ad esempio, la tassazione anche ai nobili e all'alto clero. Gli stati generali erano composti da 1139 rappresentanti così suddivisi, 270 appartenenti alla nobiltà, 291 appartenenti al clero, 578 appartenenti al terzo stato. Gli stati generali, dunque, si radunarono a Versailles il 5 maggio 1789. Da subito, ancora prima di affrontare qualsiasi problema della Francia, gli stati generali furono caratterizzati da un accesissimo scontro tra i tre ordini sul modo di votazione. I rappresentanti del clero e della nobiltà, infatti, sostenevano che fosse necessario votare per stato, assicurandosi così la maggioranza, 2 contro 1. I rappresentanti del terzo stato, invece, superiori dal punto di vista numerico, sostenevano la votazione per testa. Dopo un mese di discussione, i rappresentanti del terzo stato abbandonarono per protesta gli stati generali a Versailles. Si radunarono così per loro conto in un altro posto, una palestra usata per il gioco della palla a corda. E qui giurarono che non si sarebbero sciolti fino a quando non avessero scritto una Costituzione per la Francia. Questa nuova assemblea si chiamò Assemblea Nazionale. Era il 20 giugno 1789. Pochi giorni dopo, a Parigi, si sparse la notizia che il re voleva sciogliere con la forza questa nuova assemblea per affermare il suo potere assoluto. Per questo motivo il popolo, il 14 luglio 1789, decise di difendere l'Assemblea Nazionale. Dopo essersi armato, assalì la Bastiglia, una prigione che era considerata il simbolo del potere assoluto del re, dove il sovrano rinchiudeva gli oppositori politici, cioè chi non era d'accordo con lui. In questa data, il 14 luglio 1789, ha inizio così la Rivoluzione Francese. Grazie. 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 Grazie.